Siamo negli studi di Rossini TV per parlare di un progetto che è stato presentato qualche tempo fa nella nostra città. Il progetto si chiama Arte Scienza, in realtà è una società, quindi salutiamo immediatamente gli ospiti che sono qui nei nostri studi di Via degli Abeti. Alla mia sinistra vedete Fulvio Urbinelli, l'amministratore di Arte Scienza. Fulvio, benvenuto e siamo molto contenti di averti qui con noi. Grazie a voi per averci ospitati. E alla mia destra c'è Lorenzo Del Monte che è un tecnico della società Arte Scienza che ci introdurrà immediatamente in quello che è il focus, l'argomento del quale parliamo. Perché prima di qualunque discorso è importante partire dalla realtà, da quello che effettivamente è il tema del nostro incontro di questa sera, che potrete vedere carissime telespettatrici e carissimi amici di Rossini TV nei nostri canali, nell'80 del Digitale Terrestre. Lorenzo Del Monte, Arte Scienza si occupa di tecnologia a infrarossi, che è una metodologia innovativa per dare energia alle nostre abitazioni. Di cosa si tratta esattamente? Diciamo che la nostra creazione, quella che è avvenuta in questo mondo da parte del creatore, ha portato il mondo ad essere popolato di esseri come noi, per esempio, come uomini, animali, vegetali. Diciamo che tutta questa grande creazione deve essere anche in qualche maniera protetta, protetta da tutto quello che gli può arrivare dall'universo, che non è sempre benefico. Non è sempre benefico. Ci sono attorno nell'aria i virus, ci sono i batteri, ci sono le temperature molto alte, ci sono le anidite carboniche dovute dai vari incendi, eccetera, eccetera. E Dio deve proteggere la sua creatura. Per proteggere la sua creatura si è, giustamente non dico inventato perché è assurdo, hai mandato questi benedetti raggi infrarossi lontani, che hanno lo scopo, tre scopi, molto semplici. Di creare ossigeno sulla terra attraverso la fotosintesi clorofiliana, di proteggere e distruggere virus e batterie muffe per prevenire la salute dell'uomo per quanto riguarda il settore dell'aria, dell'espiro, e riscaldare la terra per fare creare un ambiente sano dove l'uomo possa creare e sviluppare il suo progetto di vita da 0 a 120 anni. Questi raggi infrarossi, Lorenzo, chiaramente arrivano dal sole? Arrivano dal sole, questi raggi infrarossi arrivano dal sole, vengono captati dal sistema magnetico terrestre, bloccati, inseriti insieme all'atmosfera e insieme all'atmosfera danno queste possibilità delle quali vi ho spiegato prima. Noi non abbiamo fatto altro che osservare un po' la natura, prendere il sistema, capire come funziona, è un'onda elettromagnetica, l'abbiamo riprodotta, l'abbiamo studiata nella sua fase, abbiamo trovato che la migliore di tutti è l'infrared lontano, cioè l'infrarosso lontano, che non è assolutamente, non ha assolutamente controindicazioni, è tutta una grazia di Dio, abbiamo preso quello, tecnologicamente l'abbiamo trasformato in pannelli, in riscaldamento, in irraggiamento, eccetera, eccetera. In poche parole, quindi si parla di pannelli, come vedete alle mie spalle, questi bellissimi pannelli, che poi in realtà sono parte del nome della società, perché si parla di scienza, ma si parla anche di arte, in quanto questi pannelli possono essere personalizzati e illustrati con qualunque tipo di immagine, questi pannelli vengono posizionati nelle case e grazie alla tecnologia a infrarosso ci riscaldano in maniera naturale. Quindi questo è l'argomento e questo è quello di cui si occupa arte e scienza. Volevo precisare una piccola cosa che è molto importante, noi come creature non siamo nati per vivere all'interno, noi siamo nati per stare all'esterno, insieme all'altro creato, tutto il creato. Quando veniamo all'interno noi praticamente non beneficiamo più di tutto il potere che hanno i raggi infrarossi, di conseguenza abbiamo bisogno di qualcosa all'interno delle nostre abitazioni, dei nostri uffici, che ci trasferiscono i raggi infrarossi all'interno. Perché? Perché i raggi infrarossi ci proteggono i polmoni, ci proteggono da tante malattie, per esempio le malattie infettive via aerea, per esempio sono importantissime per la creazione del nostro organismo della vitamina C, la vitamina D e la vitamina B. Sì, ecco vede la carenza per esempio nell'ultima infezione che abbiamo avuto, ha facilitato quel Covid nell'attaccarci. Se invece fossimo stati preparati magari avrebbe faticato molto di meno, avremmo avuto delle perdite molto inferiori. Perciò crediamo anche che sia tipo, diciamo consideriamo tipo presidio sanitario, perché anche nel mondo della sanità i medici tutti conoscono molto bene cosa sono gli infrarossi lontani. Esatto, infatti in occasione della presentazione che è stata al Cinemastra esattamente un mese fa, era il 26 di maggio, è intervenuto anche un medico, è stata una presentazione alla quale hanno partecipato tantissimi operatori, tantissimi curiosi, Fulvio Urbinelli. Questa presentazione si è tenuta nei locali del Cinemastra, uno dei luoghi, io lo definisco costantemente più belli di Pesaro, che hanno ritrovato vita grazie all'intervento suo come imprenditore. Ecco, diciamo che quindi quella serata, così come tante altre, hanno suggellato anche l'impegno di Fulvio Urbinelli a livello imprenditoriale pesarese, ed è una lunga storia Fulvio. Sì, è una lunga storia, mi ricollego al bel discorso grazie del Signor Del Monte, che è molto convincente, ma così la storia è nata, è nata due anni fa, la conoscenza tra noi, anche se loro sono anni che studiano sopra, che quando mi parlavano dei rasi infrarossi, sinceramente voglio essere onesto con me stesso, di che cosa parliamo? Mi rendevo conto di che cosa era l'infrarosso, la graticola per cuocere il pesce, un forno per figuare i capelli. Cioè, quando ho cominciato a capire l'importanza, la validità di questi strumenti, mi sono incuriosito e appassionato. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti subito a creare, progettare, produrre alcuni di questi quadri. E li abbiamo messi subito al cinemastra, al barastra, e di noi, 10-12 persone che lavorano al barastra, nessuno di noi ha avuto il Covid. Cioè, tranquilli, senza influenza. Ma la cosa ancora più interessante, e vorrei che i telespettatori credessero a quello che dico, perché sono storie vere, io ho portato a casa uno di questi quadri nel mese di ottobre. Ho due figli di 10 anni, come tutti i figli, tutti i ragazzi, l'inverno raffreddore, tosse, mal di gola, bruciore degli occhi, herpes, eccetera. Minimo due, tre, quattro volte all'anno. Noi da ottobre a marzo, nessuno dei figli, nessuno di noi, ha avuto il raffreddore, tosse, mal di gola, niente di nessun tipo. Ma aggiungo ancora di più, che facendo ogni tanto i tamponi, siamo risultati tutti e tre positivi al tampone. Ma non abbiamo affuto nessun effetto collaterale, né febbre, niente. Ci siamo neanche accorti. Dopo una settimana abbiamo fatto il tampone, negativo, ma per noi non è successo niente. Quindi questo non è parlare di interessi, qui parliamo di salute. Noi siamo ben convinti che abbiamo realizzato un sogno, per non dire un miracolo, tra scienza e natura. Perché questi strumenti vanno bene nelle scuole, negli asili, negli ambienti chiusi. Ma io li ho portati a casa via che è un appartamento. Vanno bene in qualsiasi ambiente e abbiamo avuto diversi interessi dall'Italia e dall'estero. Esatto, anche su questo, Fulvio, volevo proprio intervenire. C'è stata la serata di fine maggio, tanta partecipazione. Si è smosso qualcosa dal punto di vista dell'interesse proprio pragmatico, reale delle persone? Avete avuto delle manifestazioni di interesse, un approccio commerciale a questa opportunità? Sì, sì, abbiamo avuto interesse dal sud, dal nord, anche da certi uffici, certi personaggi locali. Anche lo stesso comune si è interessato di Pesaro, perché ha capito che l'evoluzione tecnologica e il risparmio energetico è ad alto livello, è molto innovativo. Abbiamo avuto richieste dall'Agentina, dalle Canarie, dalla Spagna, dal Portogallo. America Latina. All'America Latina. All'America Latina, ecco. Abbiamo avuto dalla Croazia, dalla Romania, quindi abbiamo avuto diversi interessi che speriamo di far fronte a tutte queste richieste. Esatto, chiaramente questo è molto importante. Poi la struttura deve supportare, da un punto di vista tecnologico e della produzione, poi quello che è l'evolversi. Ecco Lorenzo, quindi c'è un'evoluzione della situazione che è stata illustrata un mese fa, da un punto di vista tecnico, cos'è successo in questo mese? Queste quattro settimane sono passate sicuramente non in vano. No, diciamo che abbiamo capito l'interesse, ma durante questo periodo in quale tutti quanti noi abbiamo studiato ancora di più, perché l'amore ci prende, non ci prende l'entusiasmo, stiamo comprendendo che questi benedetti radioinfrarossi sono una risorsa troppo importante per l'umanità, non tanto per il risparmio energetico, perché sì, ma soprattutto per tutto quello che è cottura, mantenimento dei cibi, salute, presidi medici, una cosa impressionante. Ci siamo mossi nel mondo e abbiamo visto che ci sono tanti altri gruppi, piccoli, medi gruppi, che stanno studiando questo prodotto, questa materia, l'infrarosso. E allora parlando con Urbinelli abbiamo detto Fulvio facciamo un ultimo sforzo, un ultimo sforzo importante. Questo merita che andiamo da qualche parte del mondo a creare una fondazione, una fondazione che si dice che servirà a cercare nel mondo progetti inerenti a questo tipo di discorso, portarli all'interno della fondazione per poi riversarli attraverso bene, scopo, nell'umanità. Fulvio ha creduto anche in questa opinione e l'ha finanziata. E questo io lo devo ringraziare molto perché è un sogno che ho da tanti anni insieme a Lamberto. Che salutiamo anzi Lamberto Ferri che non è presente con noi fisicamente in queste riprese, ma ci sta seguendo. Lamberto Ferri è un altro dei tecnici che segue dal punto di vista proprio, si può dire, fattivo il progetto di arte e scienza. ci mette tantissimo del suo impegno e tantissimo delle sue conoscenze, quindi credo che merita un riconoscimento. Comano, comano, sicuramente. Senza Lamberto io non avrei fatto nulla. E non avrebbe fatto nulla anche senza... Senza Fulvio. Senza Fulvio che... Torniamo su questo concetto che è un imprenditore veramente di lunga data, Fulvio. A noi ci piace parlare di arte e scienza perché arte e scienza è rivolto al futuro, è rivolto all'ecologia, è rivolto all'ambiente, è rivolto a uno sviluppo della società, è importantissimo avere sogni, avere progetti, che significa non invecchiare, significa avere sempre un ruolo nella nostra società e rendersi utile perché questa migliore. Però Fulvio Urbinelli qui non nasce a caso perché qui ci sono quanti anni di attività nel nostro territorio. Tra l'altro 50 anni di attrezzature per l'arte bianca, quindi rimaniamo sempre nell'ordine dell'arte bianca, arte e scienza. Quindi posso dire, grazie a Dio, la vita non ha età per riservare sorprese. Quindi negli ultimi dieci anni ho avuto delle grandi soddisfazioni. Una di queste l'hai nominata prima perché hai parlato di due figli di dieci anni, Fulvio. Non succede a tutti di avere queste opportunità nel corso della vita, magari con qualche anno in più, come è successo a te. Sì, 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 a 65 anni, non mi vergogno di dirlo perché sono felice e onorato di dirlo, ho avuto due gemelli, Angelo e Grazia, che sono stupendi. A 70 ho rilevato il barastra come un gioco e mi sembra che stiamo riuscendo abbastanza bene, quindi la gente ne parla bene, io di questo sono molto soddisfatto. Qualche anno fa ho conosciuto appunto il signor Del Monte e il signor Ferri che hanno progettato, prospettato questa iniziativa sull'Infrarosso io posso dire che abbiate figli della vita, che la vita riserva sorprese ogni età. Non esiste un'età che se la vita finisce quando noi smettiamo di credere. Bravissimo. D'accordo, d'accordo. Non a caso c'è un detto che non è mai troppo tardi ed è verissimo, io ne sono assolutamente convinto, come anche voi. Lorenzo, quindi non è mai troppo tardi per pensare di installare nelle nostre abitazioni i pannelli a infrarossi, questi bellissimi quadri. Cosa dobbiamo fare? Se per ipotesi io, Antonio, decidessi di installare, di voler dedicare la mia nuova abitazione a questo tipo di riscaldamento, cosa dovrei fare? Vi contatto e comincia tutta un percorso. E comunque è una procedura. Ecco, esatto. Sarete visitati da qualcuno, da dei tecnici. Quindi contattiamo Arte Scienza che è intracciabile, facilmente è stata fatta una brochure. Esatto. Se ne la passi è importante perché questa brochure ci dà la possibilità di capire di cosa si tratta. Una società che ha una sede ed è in via Sandro Pertini 119 a Pesaro, quindi per chi fosse interessato, si rivolge lì e comincia quindi tutto il percorso. E comincia l'avventura. Cioè noi facciamo un sopralluogo se necessario, perché vogliamo indicare dove è il posizionamento, dove è meglio mettere questi quadri. Se mettiamo quadri, se no riscaldamento a pavimento infrarosso, se no riscaldamento a parete, indichiamo la via migliore per avere un ottimo risparmio energetico e perché il prodotto raggiunga l'ottimo. Questo. L'alimentazione ha elettricità. L'alimentazione ha elettricità. Però attenzione che l'infrarosso è un raggio magnetico. Cioè non è una resistenza elettrica. Voglio dire, un dato molto stupido, se per riscaldare un appartamento da 100 metri quadri abbiamo bisogno di 12.000 kcal ora col metano, con una caldaia a metano, ne abbiamo bisogno di 6 kW elettrici con riscaldamento elettrico, con l'infrarosso, ne abbiamo bisogno di 3,5, 4. Quindi la metà rispetto al kW. Rispetto al kW. Quindi, allora, poi succede che viene fatto un sopralluogo, si individua come fare il lavoro. È un lavoro invasivo? No, no, assolutamente non si tocca nulla. Basta avere una spina vicino. Il problema più complicato è non far vedere il filo che pendola. Cioè che pendola? Bisogna prendere, organizzare il filo in maniera carina, portare la spina in un certo posto. Chi vuole fare il raffinato può anche fare una piccola traccia, lo mette dietro il pannello. I pannelli sono tutti comandati con radiocomandi, perciò hanno l'on-off e alla temperatura che tu vuoi si possono accendere e spegnere, si possono accendere e spegnere durante la giornata, quando preferisci tu. Quindi si possono programmare. Addirittura, da qui pensiamo, nei prossimi 4-5 mesi, di mettere anche tutta la domotica, per dire io parto da Milano, ti dico io fra 4 ore arrivo, scaldami la casa, lui un'ora prima parte e ti scalda la casa, ti toglie l'umidità e ti crea il tuo ambiente dove il tuo organismo è abituato a vivere. Tutto questo è possibile per esempio farlo anche attraverso l'utilizzo dei pannelli solari, che poi riconvertono, che poi riconvertono. Ecco, grazie per questa possibilità. Noi 15 anni fa abbiamo inventato, non abbiamo inventato, ma abbiamo creato l'isola energetica, che è il luogo deputato presso le famiglie, famiglie che hanno billette, per produrre energia elettrica per la casa. Quella volta avevamo il problema del banco batterie, il banco batterie non erano così potenti per poter caricarsi di tutte le energie necessarie per un giorno, per una casa. Oggi con lo sviluppo dell'automobile elettrica abbiamo dei banchi batterie molto potenti a un prezzo molto interessante. E allora incomincia a essere fattibile produrre energia in casa, con un notevole risparmio energetico. E tu sei padrone della tua energia. E questa è la chiave che a noi ci porterà al futuro. Il grande obiettivo è questo. Il grande obiettivo è nascosto. Anche perché Lorenzo ha utilizzato un concetto che essere padroni della propria energia, mai come adesso è così importante. Considerato quello che sta succedendo, tutto quello che noi vediamo tutti i giorni con le problematiche legate, purtroppo a una situazione politica, molto difficile, a risposte da parte di chi ci dovrebbe rifornire di energia che invece dice che molto probabilmente lascerà gli stati al buio. Quindi essere padroni della propria energia è fondamentale. Una cosa molto stupida. Noi possiamo pensare a una cosa. Tutti noi abbiamo un'automobile. Tutti, no? Avete visto che un motore endotermico produce della benzina che consuma, o il gherogno, ne utilizza il 30% per la motricità. Il resto lo butta via come calore. Lei pensi quanto spreco abbiamo e quanta roba accia buttiamo nell'atmosfera? Aspetta, abbiamo prodotto energia in una centrale. La centrale attraverso la linea porta l'energia nelle città. Lo sapete, altra attenzione, 12.000, 14.000 volt, il 20% dell'energia che trasporta lì si butta via. Perciò noi se consumiamo un metro cubo di metano, in realtà è come se usassimo una piccola parte, il resto è tutto spreco. Allora, non è economicamente molto sensato questo discorso. Sarebbe economicamente più sensato farsela in casa delle idee. Ma non avevamo le possibilità. Adesso lo abbiamo. Tentare soprattutto di non sprecarla. Fulvio, hai parlato anche della questione che al Cinemastra esistono questi pannelli al Barastra. Quindi potrebbe essere anche interessante per chi sia curioso di vederli, di vederli anche in azione, fare un salto, peraltro, in questo luogo che è così accogliente e vederli con le proprie occhi e toccarli con mano, rendersi conto del calore che radiano. Sì, sì. Noi ci rendiamo conto anche che questo è un sogno, se non chiamarlo miracolo della tecnologia. Vorremmo inserirci come Pesaro è diventata città dell'arte. Vorremmo che Pesaro diventasse oltre Rossini, Raffaello, Benelli, Valentino Rossi, cioè perché secondo noi è un progetto molto, molto, molto valido. Io spero che quello che ci siamo detti qui oggi e le altre occasioni e che ci ritorneremo anche sopra, i telespettatori e le autorità capiscono l'importanza di questo progetto. Io ribadisco, lo dico anche qui, con i miei occhi ho visto Fuglio Urbinelli caricare e scaricare la macchina per portare le materie prime al barastra che poi sono utilizzate dai suoi bravissimi collaboratori che lavorano lì, quindi è davvero un encomio al lavoro e alle persone che credono in quello che fanno e come dicevi giustamente prima, non so neanche se darle del lei, del tu, ma ormai in tv mi viene un po' tutto così spontaneo, Fulvio, ma è veramente un piacere sempre avere a che fare con chi interpreta la vita in questo modo. Lorenzo Del Monte, Fulvio Urbinelli, io vi ringrazio, è stata una chiacchierata interessantissima. Arte e scienza è un progetto in itinere, è un progetto che cresce, è un progetto dinamico, come lo siete voi, come lo siamo noi, come è la nostra emittente, è un progetto che i prossimi mesi farà sicuramente parlare di sé, anche perché magari di riscaldamento d'estate se ne parla di meno, quando arriva a settembre, ottobre se ne parla di più. Lorenzo. Però, una cosa vorrei dirvi, io soffro di allergia, soffrivo di allergia, attenzione, che soprattutto in estate è terribile, i nostri pannelli contengono anche delle lampade UVC che non abbiamo detto, che servono per uccidere virus batteri e anche tutti gli allergeni, perciò se d'estate non abbiate paura di accenderlo cinque minuti il pannello, perché è disgiunto la parte riscaldante dalla parte dell'UVC, l'UVC vi pulisce l'aria e quelle persone che sono allertiche come me, vede? Si sta bene. Allora, voglio dire, è una grossa fortuna perché avere il naso che ti goccia, la scusa di depressione, avere sempre, è molto brutto vivere così, ve lo dico io, che ho dovuto vendere una bellissima casa in campagna perché non potevo respirare. Sono sintomi antipatici, si sta male. Allora a questo punto la natura vede Dio quanto ci vuole bene e noi dobbiamo imparare ad avere un occhio su e un occhio giù, cioè capire, prendere da Dio quello che lui ci vuole insegnare e portarlo nelle nostre abitazioni. La natura è lì, è un libro aperto, la vogliamo leggere o vogliamo fare i comandanti della natura? No, no, no. Non ti puoi mettere contro la natura. No, oltretutto non è mettersi contro ma utilizzarla nella maniera giusta e corretta e come diceva Lorenzo Del Monte è stata fatta la meraviglia della Terra, è stata fatta la meraviglia. Noi viviamo in un sistema che è unico, è unico, è difficile pensare di riproporlo, sicuramente nell'universo ci sarà qualcosa di simile perché è impossibile che non ci sia ma noi viviamo la nostra Terra. È uscita in questi giorni anche una immagine simpatica sui social che faceva vedere che dimensioni avrebbe per esempio il pianeta Giove se fosse alla distanza dalla Luna e dalla Terra. Una cosa enorme, immensa che noi probabilmente ci sovrasterebbe. Ecco, quindi la natura è una meraviglia. Fulvio Urbinelli ancora grazie per tutto quello che fa per la città di Pesaro e per l'impegno che mette nelle cose quotidiane. Grazie a voi che ci hai dato questa possibilità di comunicare con la gente questo grande progetto, questo grande sogno, questo miracolo della natura. Grazie Fulvio Urbinelli, grazie Lorenzo Del Monte, grazie ad Arte e Scienza. Carissimi amici di Rossini TV, seguite questo progetto perché questo progetto è davvero innovativo ed è rivoluzionario. Buona serata a tutti.